Il pomeriggio abbiamo questa seconda o terza sessione, se vogliamo meglio, che potremmo definire la parte operativa, dopo questa introduzione scientifica che ha fatto un po' anche lo stato dell'arte, ha un po' dato il senso dell'importanza, qualora ce ne fosse bisogno ancora, di queste zone umide che cerchiamo di recuperare, e che ha dato anche degli spunti operativi, ci segnala delle attenzioni che dobbiamo avere nel recupero di queste zone umide. Io parlo un po' da professionista, infatti sono stato un po' chiamato come professionista che si è occupato, un po' si occupa di questi argomenti, anche forse un po' sottolineare un ruolo che come professionisti abbiamo e avremo anche nel nuovo piano di sviluppo rurale, che è una bella sfida che speriamo in Regione Veneto di poter portare avanti con successo, e che ci vede un po' operatori, voi agronomi, forestali, periti agrari, naturalisti e quant'altro, confrontarci sul campo, da una parte con performazione professionale, culturale, il mondo accademico, con il quale dobbiamo sempre di più collegarci, e dall'altra però con gli operatori. E quindi noi operatori sia pubblici che privati, li metterei tutti e due, perché stamattina il professor Poldini parlava della pulizia degli argini, quindi mi viene in mente quando noi magari interveniamo come consulenti nelle opere di sistemazione, non solo idraulico, forestali, ma proprio idrauliche e lunghe corsi d'acqua. Quindi anche la difficoltà di, come dire, divulgare certe conoscenze che ci vengono, da una parte da un'esperienza culturale universitaria, dall'altra da interessi anche propri, magari da un percorso professionale che abbiamo fatto, e andare nel mondo, diciamo, degli utilizzatori, quindi da una parte l'ente pubblico, vuoi il mondo del genio civile, ma dall'altra poi con il mondo rurale. E allora abbiamo una funzione un po' di snodo, che non è facile, che richiede da una parte competenze, e in questo vorrei sottolineare anche l'importanza, adesso che hanno anche gli ordini professionali con tutto il peso, l'onere, ma anche l'onore, in un certo senso della formazione professionale. E allora ecco l'aiuto di enti come Veneto Agricoltura, diciamo, che sono enti, come dire, sperimentali e operativi, ecco, l'università dall'altra, e poi noi che dobbiamo fare la ricaduta. Quindi in qualche maniera diventiamo anche, in un certo senso, divulgatori. Ecco, quindi oggi pomeriggio affrontiamo più queste tematiche. Abbiamo delle esperienze diverse, che arrivano da regioni diverse, da situazioni diverse, partiamo sostanzialmente dagli strumenti comunitari, che possono essere utilizzati per la riqualificazione, il mantenimento delle zone umide, la ricostituzione, se volete, e poi dagli strumenti che si aprono, o si sono già aperti in alcune regioni, come l'Emilia Romagna e il Lombardia, si sono aperti anche da noi, ma diciamo, forse altrove hanno fatto un po' più strada, anche gli strumenti del piano di sviluppo rurale. E quindi la centralità, un po', della figura del tecnico, come dire, abilitato, competente. Quindi partiremo subito con la dottoressa, che è qui a mio fianco, Laura Tizianel, libero professionista, che ci parla appunto degli strumenti di finanziamento comunitario. Grazie.